Che c'è Emanuela? Direttore, ho venito chi lo pazza là? Avete visto che c'ha sempre il pugno chiuso? Sì. Secondo me si è rubato il cocco sullo mio, andate a vedere eh? Eh non ti preoccupare ci penso io. Grazie. Di Maiobello! Ui caro direttore, direttore caro. Come andiamo? A un c'è male, a un c'è male. Che tieni nel pugno? Eh che tengo nel pugno? Eh. Indovinate? Tieni un braccialetto d'oro? No, 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 no. Un orologio? No, 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 no. Un paio di orecchini? No, 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 no. Eh che tieni? Ho pure di sapere? Sì. Tengo la parola.